io sono ingrid questa è la mia storia selezione ufficiale festival di canna la storia della più grande diva di tutti i tempi finalmente al cinema in uno straordinario evento da non perdere io sono ingrid solo il 19 e il 20 ottobre al cinema prenota il tuo biglietto su